Grazie Enzo. Dalla sezione memoria del vento. Nel giorno terzo di nuvole e voci si slacciano precipizi delle mura e del cartone bagnato. S'allungano e si rivoltano come un gatto al sole. Compaiono e ricompaiono. Sui dorsi della collina che s'allontana. Forse era d'estate. L'ascolto ancora e ancora. E finalmente abbiamo finito di ridipingere tutto. Per i libri entrambi tutto quello che c'è intorno. E bisognerebbe invece lasciarlo fuori forse dove già rendendoci d'amore trasparenti. Chissà. Davvero così a bruciapelo lo faresti? Con lo specchio da capogiri sempre unirici omaggi a quel Tarkovsky. o smettere di preoccuparsi. O smettere di preoccuparsi. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo in questo. È chiaro. Chiaro come il nostro pensiero cangiante. Ti basta. A me mai. Ma saperlo a volte mi sente. Poi ci sono le persone. E ci sono i movimenti. E se ti raccontassi. Poi ci sono le persone. E ci sono i movimenti. E se ti raccontassi. Del voler bene. Questo che esiste questo. Si, per mai ho fatto. Si non__lamo l'ho chocca dane. Écora myślare. Poi ci sono in queste eleаци. Tipo di trend.